Io sono molto contento perché so che i vostri premi sono basati sulla serietà del professionista e per me lo dico senza piageria, vincere il vostro premio è una grossissima soddisfazione perché vuol dire che il mercato ha apprezzamento per la serietà del professionista Anche perché viene assegnato appunto da una commissione tecnica composta da suoi clienti E' questo che mi fa molto piacere perché al di là della felicità del premio che indubbiamente mi fa molto piacere mi fa piacere avere un riscontro di questo tipo e per me questo vuol dire continuare a lavorare come prima e meglio di prima Come sta andando la serata? Con chi è al tavolo? Dunque io sono al tavolo con dei collaboratori di studio, un po' di gente che ho invitato e direi che è la prima volta che partecipo alla serata di Roma e vi devo fare i complimenti per la location e per il modo con cui è stata organizzata Non che quella di Milano, intendiamoci, però quella di Roma ha il fascino della location romana Grazie a tutti Grazie a tutti